Ciao, mi chiamo Giulia e lavoro a Groupon. Hai comprato un coupon per la manicure o per lassarti un giorno alla spa ma non sai come utilizzarlo? Nessun problema, ti aiuto io. Se hai prenotato tramite app, clicca sul tuo profilo e il voucher apparirà nella sezione I miei acquisti. Seleziona il deal che hai comprato, puoi trovare tutti i dettagli sull'utilizzo del coupon nella sezione condizioni, comprese le informazioni per contattare il partner. Se non hai ancora l'app, scaricala subito. Se hai prenotato sul nostro sito, accedi semplicemente al tuo account con il tuo indirizzo email e password. Posiziona il mouse sul tuo nome e clicca i miei Groupon per vedere le offerte che hai acquistato. Prendi nota del codice di sicurezza e del codice Groupon sul tuo voucher che ti serviranno al momento della prenotazione. Ora non ti resta che presentarti all'appuntamento e goderti il tuo coupon. A presto!